Andiamo con il quinto relatore, abbiamo con noi Manuel Locra. Grazie Manuel per essere qui oggi con noi. Grazie, Manuel. Grazie a tutti, voglio dire grazie per l'invitazione, sono orgoglioso di parlare con voi oggi. Mi ricordo che non ho molto tempo per spendere con voi, perché delle obbligazioni con il team national, ma sono felice di essere con voi oggi. Mi ringrazio appunto per la partecipazione, è grato appunto la possibilità di essere qua e di poter fare la presentazione che andrà a farci adesso. So, I will start to introduce myself a little bit, just a short time, because I think I'm a little bit not special, but different, because I'm not a guy who comes from basketball, I do basic, I'm a soccer player, and my experiences was a lot of different parts, so I will explain after. Sì, adesso appunto andrà giusto a presentarci il suo background appunto attraverso le esperienze che ha fatto nel mondo sportivo, principalmente palacanestro, ma appunto attraverso le scienze motori sportive. So, I have graduation for the sport, for the management, for the physical training, also video analyst, also for soccer trainer, I was a soccer trainer for the professional academy. Ci ripresenta appunto il suo curriculum dove appunto possiamo vedere i vari titoli di studio e che vanta attraverso i quali appunto possiamo vedere anche la qualifica di video analyst e di soccer trainer a livello professionistico. Ci tiene poi a menzionare ovviamente l'influenza da Gilles Cometti, che è stato uno dei primi allenatori in Francia a inserire il lavoro e l'utilizzo della forza anche nel mondo calcistico. So, Life gave me a lot of different opportunities, so the first one was in 2001, with a short track, you know, the ice skating for the Olympic Games in Salt Lake City. In the same time, it was my first experiences with basketball, it was a woman team in second division in France. After I leave for the tennis, I got a lucky guy because I can work with Marion Bartoli who won Wimbledon. Ci presenta appunto la sua esperienza, è iniziata appunto nel patinaggio su ghiaccio, andando poi appunto a lavorare con la palacanestre femminile. Ha avuto poi una breve esperienza appunto nel tennis, appunto ad alto livello, per poi ritornare nella palacanestre professionistica a Dijone e a Las Bell, andando poi a lavorare anche per brevi periodi nel volley e infine appunto alcune parentesi nel calcio professionistico in Giappone e in Tunisia. Nel frattempo appunto continuando il lavoro di collaborazione con Isokinetic. Ok, and I tried a little bit to be a teacher in university, but it was a long time ago. L'argomento appunto della sua presentazione riguarda l'individualizzazione del lavoro appunto per una stagione di successo, proprio per il fatto per il quale appunto attraverso un'individualizzazione del lavoro possiamo lavorare meglio sugli aspetti fisici con maggiore efficienza e appunto possiamo avere degli aspetti mentali più efficaci grazie appunto a una motivazione maggiore dato che il giocatore si sentirà più motivato davanti a un lavoro individuale. Il paragone che fa appunto il coach attraverso lo sviluppo del giocatore riguarda il fatto di andare da un punto A a un punto B durante la stagione, passando appunto da un momento simile a quello appunto di guida, prendendo un taxi dove vieni appunto accompagnato, fino a che appunto non diventa un giocatore autonomo attraverso il quale appunto può performare ed eseguire come appunto un atleta pilota di Formula 1. Quindi, ovviamente, perché l'individualizzazione? Perché tutti i giocatori sono diversi, ma vedi questo, ad alcuni punti, ovviamente la posizione, l'age, l'interno, l'valuamento, l'entropologia. Per esempio, l'anno scorso, la posizione 4 nella nostra squadra era 2 metri e 125 kg. L'anno scorso è 2,19 metri e era 99 kg, quindi non è la stessa. È importante appunto individualizzare i lavori per i singoli giocatori proprio perché ogni giocatore è differente, considerando il fatto che giocano in ruoli differenti, hanno età diverse, hanno un background differente, ovviamente ognuno porta dei valori antropometrici propri, una nazionalità propria, una personalità differente. E ovviamente il giocatore stesso può cambiare durante la stagione, durante lo scenario della stagione, attraverso appunto momenti di infortunio, carichi differenti e così via. Il lavoro individualizzato deve andare a inserirsi appunto attraverso un'organizzazione di squadra, un'organizzazione collettiva, apprezzamente dettata dall'allenatore che cerca appunto di controllare la squadra in maniera generale, ma il lavoro che vuole inserire il corso è ovviamente quello individualizzato per ciascun atleta. L'allenamento individuale in questo caso può essere inserito prima o dopo la sessione di palacanestro. In base appunto alla posizione della giornata dell'allenamento cestistico, l'allenamento, l'individual workout, andrà appunto sistemato in base a quando è posizionato l'allenamento di basket. Se il basket verrà fatto al mattino, al pomeriggio verrà inserito appunto l'allenamento individuale. Se andiamo ad inserire l'allenamento individuale, lo andiamo ad inserire appunto dentro la sessione collettiva e può essere appunto intercambiabile, può essere inserito sia al termine della sessione collettiva dove viene eseguita prima una fase di lavoro di core training o di mobilità o viceversa, faccio prima l'allenamento individuale di 20-25 minuti per l'allenamento individuale andando a terminare poi con un lavoro generale. Può essere inserito, puoi iniziare con una sessione collettiva, iniziare con una sessione collettiva, fare qualcosa individuale e tornare con una sessione collettiva all'inizio dell'inizio. Vi faccio un esempio qua qui. Questo è un esempio, questa è una foto di una pratica che abbiamo fatto. Per darci appunto un esempio del tipo di lavoro che esegue l'Asvel ci fa l'esempio appunto di un allenamento cestistico dove viene eseguito principalmente esercizi di transizione dove vengono richiesti sprint e alta intensità e in questo caso i due big men, i due giocatori, i due lunghi appunto, sono stati tolti dall'allenamento per andare a lavorare in maniera integrata sulla bike per poi appunto rinserirsi nell'allenamento cestistico quando verrà abbassata l'intensità. Per andare appunto ad eseguire, a organizzare degli allenamenti individuali bisogna appunto riuscire ad avere una perfetta analisi dei giocatori è necessario avere una buona organizzazione pedagogica della squadra. All'Asvel hanno due preparatori fisici a tempo pieno quindi possono appunto gestire bene le varie individualità. Si va poi a creare un'autonomia appunto nel lavoro come faceva appunto prima l'esempio con il guidatore che prima viene accompagnato per poi andare a fare la strada da solo e alla fine è necessario appunto saper gestire e conoscere tutti i vari parametri che vengono presi appunto per poter gestire al meglio gli allenamenti individuali. La prima parte della analisi di giocatori è la prima intervista di giocatori quindi devi discutere con il giocatore prima di signare e tutto ciò ma durante la season per avere qualche tempo per sapere il giocatore per sapere cosa vogliono fare. Per eseguire una perfetta analisi del giocatore verrà eseguito inizialmente delle interviste, dei colloqui semplicemente delle chiacchiere appunto con il giocatore per andare a conoscerlo per poi passare a una fase successiva dove una volta che viene inserito un nuovo giocatore in squadra andrà appunto a chiedere informazioni al preparatore fisico che aveva in precedenza per poi andare a terminare inserendo appunto dei vecchi dati, delle vecchie informazioni riguardo alle stagioni precedenti del giocatore nel caso avessi giocato 50 partite o 82 per avere un perfilo completo. Ovviamente per completare al meglio l'analisi del giocatore è importante tutta una fase di test che possono essere semplici, utilizzabili che possono essere appunto tramite video e quindi anche riproducibili in slow motion perché va a vedere appunto le qualità che il giocatore va a eseguire in campo essendo appunto in una squadra che gioca l'Eurolega non è per lui importante vedere la velocità dell'esecuzione dei movimenti ma più che altro il come va il giocatore a eseguire quei movimenti per essere il più efficiente possibile Nella fase appunto di test va a eseguire diversi test come abbiamo visto prima con il counter movement jump attraverso l'applicazione My Jump per esempio per andare a vedere appunto come il giocatore riesce a caricare come il giocatore riesce ad atterrare, le varie attivazioni appunto a livello di caviglia il valgo e così via per vedere la qualità del salto Adesso appunto andiamo a vedere come esegue il test di salto orizzontale appunto collegandoci all'argomento precedente vediamo come c'è questa correlazione tra il salto orizzontale e l'esecuzione appunto di uno sprint di un first step, di un primo passo in velocità e appunto andiamo a vedere tramite il test l'esecuzione del movimento appunto andiamo poi a vedere come utilizza il rich jump test giusto per andare a vedere appunto la possibilità di arrivare il più in alto possibile al braccio alzato gli interessa qua andare a vedere e a valutare appunto la qualità nel cambio di direzione appunto utilizzando i test per la performance e la motricità attraverso questo shuttle di 2x5 andrà a valutare appunto come nel cambio di direzione nella prima foto magari appunto è richiesta una maggior torsione del busto come appunto nella foto successiva appunto per andare a cercare al meglio la qualità del gesto anche attraverso questo test andiamo a valutare appunto la motricità nel movimento qua durante appunto un esercizio reattivo perché il giocatore è posizionato davanti ai due coni sui quali appunto sono appoggiati delle luci colorate in base a quale delle due si accende il giocatore dovrà ovviamente partire e andare a toccare la luce in questo caso appunto andiamo a vedere non tanto la quantità diciamo appunto della velocità cioè andiamo più che altro a valutare appunto il come viene eseguito il movimento quindi appunto se il giocatore ha delle appunto mancanze dal punto di vista di mobilità di forza e di posizione nel campo per appunto andare poi a lavorare al meglio possibile dopo aver preso questo test al giocatore in questione sono stati inseriti poi dei lavori di mobilità delle anche di deep squat, di squat profondo e di rinforzo comunque appunto degli arti inferiori per andare poi a lavorare al meglio possibile nel gesto richiesto quindi secondo esempio per il stesso test è veloce, è un atleta quindi quando hai la performance hai detto ok, è un atleta ma se guardate questo test hai un problema la forma che cambia il risultato attraverso appunto quest'altro test nonostante possiamo vedere un'esecuzione migliore per quanto riguarda appunto la velocità utilizziamo comunque questo test per poter vedere le varie diciamo assimetrie tra una caviglia e l'altra per vedere appunto lo shift del peso da una parte all'altra e da poter prendere in considerazione le cose sulle quali puoi andare a lavorare in futuro è importante appunto per il coach andare appunto a comparare i vari lavori appunto per poter vedere che effettivamente magari un movimento viene eseguito in qualità con alta velocità e così via ma magari appunto ha delle mancanze da un punto di vista dell'esecuzione del movimento e andrà poi quindi ad aggiustare diciamo questa parte qua tra i vari test hanno appunto anche alcuni test per vedere le assimetrie tra quelli appunto alcuni test funzionali o viene utilizzato anche un dinamometro per riuscire a andare a studiare appunto la forza analitica quindi dopo questo puoi designare un programma hai un'idea di cosa vuoi fare con il gioco e di cosa vuoi migliorare durante il anno quindi abbiamo dovuto mettere questo in organizzazione quindi la organizzazione è un programma di lavoro individuale un'ora prima prima di ogni pratico tutti i gioco hanno di arrivare al gioco una prima prima di un'ora prima prima di tutto si organizzano con 20 minuti il 16 minuti è il coach di保持 Dopo aver eseguito l'intera batteria di test si può andare a programmare in maniera precisa dei workout individualizzati, generalmente appunto fa andare i giocatori un'ora prima dell'allenamento collettivo dove verranno separati in vari blocchi da 20 minuti dove potranno eseguire i propri lavori di strength and conditioning, di lavoro con i fisioterapisti o direttamente di tecnica individuale in base alle necessità dei singoli giocatori. All'inizio viene appunto instaurata una routine legata alla prevenzione degli infortuni o comunque una routine legata all'attivazione e se inizialmente viene eseguita con frequenza verrà poi lasciata una libertà e un'autonomia al giocatore a eseguire i propri esercizi. Viene poi appunto inserita una sessione dedicata maggiormente allo sviluppo dell'atleta dove si andrà a lavorare in maniera più dettagliata sul carico, questo tipo di sessione viene sostituita e cambiata ogni due mesi. Quindi appunto può eseguire diciamo una sessione di allenamento dove avrà fatto appunto un 20 minuti dove c'è un'attivazione e una routine di prevenzione per poi andare a fare un 40 minuti di lavoro appunto più di sviluppo del giocatore. Il programma appunto giornaliero può essere legato appunto a uno sviluppo della forza generale. I choose a player from Bologna Per appunto scegliere un giocatore da Cimostra appunto un giocatore di Bologna giusto per stare in tema. Il lavoro può appunto poi inserire delle attivazioni appunto analitiche. che in questo caso vediamo alla leg extension appunto un lavoro isometrico per i quadricipiti di 10 secondi che vanno poi ad aumentare. Anche in questo caso va a lavorare appunto su un'attivazione analitica legata appunto al lavoro di caviglia, di dorsi e flessione. Quindi quando hai bisogno di lavorare su un'attivazione, su un'attivazione, su un'attività e su un'attività, puoi avere un po' di tempo. Puoi lavorare su un inflixor, se hai qualche disbalanza con questo. Quindi qui usiamo il Munkifit con le dumbbells, questa è una routine che si fa due volte a settimana. Abbiamo appunto un altro esempio di una routine individualizzata, eseguita appunto due volte a settimana. Sempre per la footwalk. Quindi prendi la torre, puoi usare il peso quando hai un piede forte. Sempre un lavoro analitico appunto dedicato alla forza del piede. Può essere alcune specifiche eccentriche necessarie in basquetball. Può essere alcune specifiche eccentriche necessarie in basquetball. In basquetball hai molti problemi per il piede, quindi puoi usare l'eccentriche per inserire le tendenze o le joint. Il programma individualizzato può contenere anche appunto delle specifiche necessità appunto eccentriche, proprio come spesso purtroppo delle quali spesso vengono soffrono i giocatori, come in questo caso vediamo l'esecuzione di uno Spanish Quot. Sempre appunto un esempio con lo step down. Possono essere inseriti anche appunto allenamenti legati appunto all'esclosività. Una situazione classica box jump. Può essere alcune motricità. Quindi hai il piede, la motricità, l'esclosività, l'esclosività, quindi puoi lavorare su mobilità sui piedi, su un passo dinamico, su motricità, quindi puoi fare un mix. Viene qua appunto eseguito un mix nel lavoro di motricità, dove inserisce del lavoro appunto per la velocità dei piedi, per il footwork, del lavoro appunto per la mobilità delle anche e richiede quindi un mix dei vari lavori. Può essere una educazione di sprint. Per questo ragazzo è stato molto importante per noi lavorare sul spinto. Viene poi inserita appunto una fase nell'educazione allo sprint. Per questo ragazzo è un grande ragazzo, quindi è proprio proprio l'esclosività di fare come questo. Quindi lavoriamo con i video, lo vediamo tutto il tempo per migliorare il giorno dopo. Allora, attraverso l'analisi video viene poi appunto educato a eseguire al meglio il movimento. Oh, è sempre un esercizio classico. Per appunto andare a ricercare delle informazioni individualizzate, viene poi appunto studiato la quantità di tempo di gioco di un singolo giocatore, il benessere, diciamo la sensazione di benessere dei giocatori, la sensazione di dolore dei propri giocatori per poi appunto andare a raccogliere i dati attraverso l'utilizzo di Catapult e del software My Coach. Al mattino ai giocatori viene appunto dato questo questionario attraverso gli iPad dove appunto potranno dare un feedback soggettivo riguardo appunto alla sensazione di fatica, all'umore, alla qualità del sonno e altri fattori. Questo tipo di informazioni ovviamente prese singolarmente non ha una particolare importanza, però vengono poi raccolte durante tutta la stagione e la tendenza appunto delle informazioni ricevute ci darà diciamo un'indicazione dello stato di salute del giocatore. Anche nella raccolta dei dati legati appunto alla quantità di gioco in partita, andrà poi appunto a individualizzare il lavoro per ogni singolo giocatore, se per esempio appunto per 5 partite ha giocato meno rispetto al tempo richiesto, andrà poi a integrare del lavoro in sala pesi per mantenere appunto quel livello. Allo stesso tempo appunto intende l'idea del se il giocatore ha eseguito le ultime 5 partite con un minutaggio molto alto, andranno poi con l'allenatore a pensare delle strategie per appunto abbassare il tempo di gioco dell'atleta nelle partite domestiche, nelle partite di campionato e così via. Spiega appunto che è importante nell'utilizzo del GPS e nell'utilizzo appunto di Catapult il fatto che ogni giocatore deve avere i propri dati, deve essere individualizzata anche questa parte del lavoro e non possono esserci appunto dei paragoni tra un giocatore e l'altro, anche per evitare che all'allenatore venga diciamo messa in testa l'idea di uno stato di salute migliore tra un giocatore e l'altro. Il GPS appunto va poi a creare appunto una media diciamo tra i valori migliori delle ultime 3 partite giocate e degli ultimi appunto migliori valori ottenuti in allenamento. E' appunto importante con la raccolta dei dati avere poi diciamo appunto una tendenza come possiamo vedere nel grafico appunto attraverso la quale avere un punto di riferimento per gestire giornalmente il carico d'allenamento dei singoli giocatori. Perché se vediamo per esempio che la nostra tendenza è a un certo livello e il carico percepito dal giocatore appunto viene diciamo a mancare, viene comunque a scendere, andremo poi appunto a modificare per l'allenamento successivo. Dobbiamo ovviamente capire se il livello che ottiene il giocatore in quella singola seduta di allenamento è basso a causa di un allenamento collettivo di squadra a bassa intensità o per altri motivi. Infatti collegandoci al grafico precedente possiamo vedere come appunto il carico percepito dai singoli giocatori deve essere adattato attraverso appunto poi delle sessioni di basket extra o comunque delle sessioni appunto di lavoro extra nel caso dovesse esserci un incremento del lavoro o invece andiamo poi a appunto gestire al meglio il carico nel caso ci deve essere una situazione di fatica esagerata percepita dal giocatore. Tra i vari dati appunto che vengono raccolti ci sono anche i vari diciamo movimenti ad alta intensità come per esempio le accelerazioni, anche qua andremo poi ad adattare il tipo di lavoro in base appunto al rapporto che c'è tra il giocatore, il lavoro che ha eseguito in campo e la tendenza di squadra. Se appunto vediamo che c'è un tipo di lavoro diciamo minore dal punto di vista dell'intensità da parte del giocatore andremo poi ad integrare con appunto delle esercitazioni specifiche o degli esercizi dedicati all'accelerazione. Stesso discorso ovviamente per quanto riguarda la quantità dei salti eseguiti in partita o comunque durante appunto il lavoro in allenamento ci sarà poi un adattamento integrando appunto i lavori pliometrici. Terminato appunto l'allenamento una volta che viene eseguita diciamo una volta che viene fatta una riunione tra appunto coach e tutto lo staff verrà poi appunto valutata la possibilità di poter integrare il lavoro per il singolo giocatore inserendo magari qualche esercizio pliometrico in un blocco da 20 minuti. Nonostante appunto tutto il discorso legato all'attivazione, nonostante tutto il discorso legato appunto all'individualizzazione del lavoro per i singoli giocatori non dobbiamo dimenticarci che essendo uno sport di squadra dobbiamo comunque riuscire a tenere diciamo un lavoro collettivo per ciò che riguarda i warm up, per ciò che riguarda appunto l'attivazione, per ciò che riguarda appunto dei giochi differenti, divertenti, collettivi che possano coinvolgere tutti i giocatori in squadra. I think I'm done, so thank you for your attention. Thank you Manuel, thank you Manuel. Ok, domande? Spiego appunto la domanda fatta che riguarda appunto il fatto che se è meglio utilizzare appunto i tre migliori valori appunto tenuti in partita o in generale appunto durante la stagione con i vari picchi di performance. It's a question, for example, I'm not over with this, I just did the last two years, so maybe in three, four years, same question, I got... Semplicemente appunto non abbiamo ancora abbastanza informazioni da poter appunto valutare quale delle due opzioni sia la migliore per ottenere dei dati utili. Ok Manuel, thank you very much to Hamil today with us. Grazie mille. Grazie a tutti.